In realtà noi non vogliamo vendetta, vogliamo che chi ha ucciso abbia la giusta pena, basta, non chiediamo vendetta. Comunità, il Comitato, Don Ciro, la Fondazione Polis, abbiamo avuto un mondo attorno, avremmo preferito che tutta Torre Annunziata fosse attorno a noi. Dopo un anno cosa è cambiato? Quasi nulla, abbiamo visto che pochi giorni fa hanno ucciso un ragazzo di 19 anni, di 15 anni, quindi se le amiche le ha cambiato qualcosa è assolutamente nulla e questo è il motivo per cui noi lo ricombattiamo. Siamo qui per abbracciare la famiglia di Maurizio, per abbracciare questa città, per riprendere il coraggio di dire no alla Camorra, a ogni forma di legalità, per provare a ricominciare. Certo non è semplice perché ci sono oggettivamente tanti ostacoli che si frappongono sul nostro cammino, mai più. Noi continuiamo a dire mai più perché non faremo mai un passo indietro, perché crediamo fortemente che questa terra merita la pace, crediamo fortemente che è possibile e quindi ci impegniamo.